C'era una volta. La bella addormentata nel bosco. Legge Beppi Bianchetti. Quando il principe vide la bella addormentata, se ne innamorò subito per la sua bellezza e datole un bacio sulle labbra. Un bacio sulle labbra? Ma qua nessuno ha addosso una mascarina? Nessuno ha rieggiatto per cent'anni? Ok, principe, ma io vengo là e tiro una lecca che ti faccio un mosaico dei denti sul soffitto. Scusa, ti aspetta cent'anni e un par de mesi che siamo tutti vaccinati e si è finita la pandemia, no? Ascolti, è come quando giochi a briscola e gli arrivi all'ultima mano e ti gai in mano l'asso di briscola e il tre di briscola. Che cosa fai? Ti ritiri. No, giochi di squadra insieme al socio, lui carica, te prendi e porti a casa la partita. Si tratta di tenere duro ancora un po', dai, tutti insieme. Teniamo duro. Distanza, igiene, mascherina.